L'USR, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, non paga più l'affitto alla Regione Abruzzo per lo stabile che occupa, quello del genio civile a Teramo? Sì, io ringrazio il Presidente Marsiglio che ha ricepito immediatamente il nostro stimolo, praticamente anche se una piccola somma di 16.000 euro annuali, prima si pagava alla Regione Abruzzo. Questa piccola somma che rimane a disposizione dell'USR è stata subito investita in un modo molto intelligente da parte del Direttore per acquistare i computer, per mettere a disposizione le nuove figure tecniche che arriveranno nei prossimi mesi. E' proprio di ieri la notizia che arriveranno 15 nuove unità all'USR di Teramo. Sì, questo è un lato positivo, è molto importante perché chiaramente i tecnici erano indispensabili. Era indispensabile pure però far trovare già i tavoli pronti per poter lavorare, era indispensabile pure climatizzare quel posto nel periodo estivo, se no non si rende fattibile il lavoro dei tecnici. E devo dire che il Direttore che ringrazio con questa piccola somma ha provveduto a fare questo e non è poco, questo è un segnale importante. Lei si batte da tempo contro i ritardi della ricostruzione, secondo lei con queste novità qualcosa cambierà? Guardi, queste sono delle iniziative locali di un Direttore dell'USR che va, come dire, quantomeno va apprezzato. Quello che deve cambiare Roma purtroppo da qui noi possiamo fare ben poco. Le iniziative anche del sindaco dove io ho partecipato volentieri è quello di manifestare, però mi auguro che non si arrivi all'esasperazione perché ho visto anche nella voce degli altri sindaci, degli altri crateri che si sta arrivando all'esasperazione. Sul nostro territorio devo riscontrare purtroppo che molte pratiche istruite dall'USR sono ferme perché manca la risposta dei comuni o del genio civile. Io spero che questo si vada a sbloccare, io spero che tutti collaborino, tutti diano il massimo perché se no non possiamo dare sempre colpe solo all'USR perché molte pratiche sono pronte ma manca l'ultimo atto che è o del comune o del genio civile o entrambi. Io spero che questo si vada prima possibile a sbloccare.